La Battipaliese ha comunicato di aver ricevuto una notifica da parte della Polizia di Stato di divieto di trasferta per motivi di ordine pubblico per i suoi tifosi in vista del match in programma a Cassel San Giorgio sabato alle ore 14.30. La società bianconera, preso atto della comunicazione ricevuta, invita i propri sostenitori a non seguire la squadra in trasferta sabato pomeriggio, al fine di evitare problemi di ordine pubblico. Grazie